Che cosa è Common Spaces? Common Spaces è una piattaforma online di apprendimento collaborativo dedicata allo sviluppo delle competenze utili nel mondo lavorativo. La piattaforma ospita diverse comunità di pratica, accademiche e non, che sono interessate alla formazione continua dei propri membri. Cos'è una comunità di pratica? Una comunità di pratica è un gruppo di persone che lavora nello stesso campo, che condivide uno stesso interesse e che collabora per apprendere e costruire conoscenza. Per fare qualche esempio, potrebbero essere traduttori tecnici interessati a sviluppare le proprie competenze tecnologiche oppure bibliotecari che vogliono migliorare la conoscenza delle lingue straniere. Common Spaces offre a queste comunità uno spazio condiviso e gli strumenti necessari per creare conoscenze in modo collaborativo e gratuito, grazie all'uso di OER. Cosa sono gli OER? OER è una sigla che sta per Open Educational Resources, ossia risorse educative aperte, vale a dire materiali didattici come video, e-book, presentazioni, corsi, eccetera, che sono disponibili online gratuitamente. Incontrandosi su Common Spaces, i membri delle comunità di pratica possono quindi creare i propri percorsi didattici in modo autonomo, attivo e gratuito. Vuoi partecipare anche tu ai progetti di Common Spaces? Iscriviti oggi stesso alla piattaforma. Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti